La Fadoi ha inteso a partire da quest'anno di offrire un pacchetto formativo ai propri associati, un pacchetto formativo che possa essere fruibile a livello anche di tablet, a livello di smartphone, cioè un pacchetto formativo che sia fruibile al letto del paziente. Questo pacchetto formativo si compone fondamentalmente di una parte relativa a quelle che sono le news e comparse sulle principali riviste internazionali che vengono tradotte e commentate da esperti Fadoi. Una parte che riguarda l'argomento l'esperto risponde, cioè degli argomenti di medicina interna dove ancora non c'è una chiara consolidazione di dati, dove non c'è un chiaro orientamento da parte della letteratura internazionale, sentire proprio il parere dell'esperto su questi specifici argomenti. Poi un'altra parte sarà dedicata a delle linee guida su quelle che sono le prevalenti patologie di interesse internistico, anche queste commentate. E infine due link che abbiamo, una con l'Up to Date che è una rivista internazionale che permette appunto di poter accedere a dei topics aggiornati, anche questi su capitoli di patologia di interesse internistico, ed infine un trattato di farmacologia clinica, anche questo che può essere fruibile da smartphone, da tablet, al letto del malato e quindi di offrire proprio direttamente nella pratica quotidiana questo importante strumento al medico internista ospedaliero.